La provincia di Sondrio gestisce ben 400 chilometri di strade. Ovviamente tra questi sono tanti i ponti. I più grossi sono quelli sull'Adda e sulla Mera. Esordisce così Angelo Colombi, responsabile del servizio viabilità della provincia di Sondrio, interpellato sullo stato di salute delle infrastrutture viabilistiche in Valtellina e Val Chiavenna. Abbiamo un sistema di cantonieri addetti al monitoraggio della nostra rete viaria. Anche le segnalazioni dei cittadini però sono per noi preziose. Ovviamente, spiega, dopo il crollo di Annone sulla strada statale 36 abbiamo avviato un'ulteriore ricognizione sugli interventi necessari e sui costi che questi richiedono. Talvolta abbiamo ristretto le carreggiate oppure limitato il peso massimo dei mezzi transitabili o anche optato per il senso unico alternato. Ovunque siano sorti dei dubbi abbiamo adottato un approccio cautelativo. Massima prudenza imposta anche dai precedenti. Non sono passati nemmeno due anni, infatti, dalla caduta del ponte di Annone nell'Ecchese che sovrastava proprio la statale 36. Allora si registrarono un morto e cinque feriti. Ed è solo uno dei casi censiti negli ultimi anni sul territorio nazionale per arrivare al 14 agosto 2018 con il crollo del ponte Morandi a Genova, lungo l'autostrada a 10. Una tragedia che riaccende prepotentemente i riflettori non solo sulla viabilità nazionale ma anche su quella locale. Ancora di più in una provincia come quella di Sondrio, per sua conformazione solcata da numerosissimi corsi d'acqua. Rimaniamo vigili, conclude Colombi, sullo stato delle nostre infrastrutture, continuando sul cammino di manutenzione ordinaria già tracciato in precedenza.